Saranno necessari ulteriori approfondimenti per stabilire con esattezza le cause del decesso di Natascia Pugliese, la 23enne di Cerignola, morta sotto i ferri lo scorso 4 settembre al Policlinico Riuniti di Foggia. Non sono bastate le oltre 4 ore di autopsia eseguita nel reparto di medicina legale dell'ospedale foggiano dal professor Vittorio Fineschi, chi ha chiesto 90 giorni per il deposito della perizia. Nell'entourage del medico anche il professor Erino Angelo Rendina dell'ospedale Sant'Andrea di Roma e la professoressa Monica Rocco dell'università La Sapienza. All'autopsia hanno partecipato anche i periti di parte il professor Giancarlo Di Vella di Torino e il dottor Luigi De Blasi di Bari che rappresentano i 20 medici e infermieri indagati dalla procura di Foggia come atto dovuto per omicidio colposo in relazione alla morte in sala operatoria. Sul corpo della ragazza è stata eseguita anche un attacco. Dopo l'esame otoptico è arrivato il nulla osta per i funerali che sono stati celebrati ieri nella chiesa di San Leonardo nel quartiere Torricelli di Cerignola alla presenza di familiari e amici della sfortunata 23enne. Dopo un lungo ricovero cominciato il 19 giugno scorso a seguito di un tragico incidente in monopattino, la giovane era stata sottoposta il 4 settembre ad un delicato intervento chirurgico conclusosi drammaticamente con il decesso della ragazza. Alla notizia della sua morte alcuni parenti della paziente, circa 40 persone, si erano scagliate contro medici e infermieri del reparto di chirurgia toracica del policlinico di Foggia. Per sfuggire alle violenze i sanitari furono costretti a barricarsi in una stanza dei riuniti da dove avevano ripreso con un telefonino l'aggressione con il video che è poi diventato virale sui social network. Ad avere la peggio in quei lunghi momenti di follia, un chirurgo raggiunto da diversi pugni al volto, un secondo medico spintonato e finito a terra ed una dottoressa che aveva riportato la frattura di una mano. Le indagini sulla brutale aggressione sono tuttora in corso.